Il Dio che ha pensato di fare un bagno lunare. Ti presento il Dio egizio Consu, noto per le sue serate sotto le stelle. Consu, il Dio della Luna, amava splendere di luce propria durante le notti più buie. Una sera, mentre stava contemplando la luna alta nel cielo, ebbe un'idea. Perché non fare un bel bagno nella luce lunare? Così Consu iniziò a riempire una vasca con l'acqua più pura e limpida del Nilo, con l'intenzione di immergersi completamente nella sua luce favorita. Ma c'era un piccolo problema. La vasca era troppo piccola per il grande Dio. Deciso a non rinunciare al suo momento di relax, Consu trovò una soluzione creativa. Chiamò il Dio della creazione, Ptà, e chiese di costruire una vasca lunare su misura per lui. Ptà, con il suo talento per l'artigianato divino, creò immediatamente una vasca enorme abbastanza grande da contenere Consu e la sua magnifica luce lunare. Così, quella stessa notte, Consu si immerse nella vasca lunare, brillando ancora di più sotto il riverbero della luna. Gli abitanti del regno lo osservavano sbalorditi dallo spettacolo divino, ridendo di cuore dell'idea brillante del Dio che si godeva un bagno lunare. E da allora in poi, diciamo che Consu divenne noto non solo come il Dio della luna, ma anche come il Dio del bagno notturno più stravagante.